Ma francamente un po' tutte no. Io ripeto, noi li abbiamo scelti con le primarie, proprio perché c'era il Porcellum e la nostra commissione di garanzia è intervenuta prima, durante e dopo. Mi pare che dalle altre parti, in particolare nel PDL, il criterio sia tutt'altro. Come si faccia a comunare situazioni così diverse, francamente non capisco.